Il paesaggio è ciò che dovremmo immaginare mentre camminiamo, questo purtroppo non avviene spesso, siamo sempre molto condizionati dai mezzi di trasporto, invece dovremmo riscoprire questo piacere mentre passeggiamo per le strade del nostro paese, immaginare ciò che vediamo e magari provare a trasformarlo con la mente, questo è il paesaggio, quello che può diventare la nostra casa e deve esserlo effettivamente, quello che vediamo e quello che vogliamo che sia nostro e che possa essere come ce lo aspettiamo. Grazie a questa esperienza, quella del Libro Scoprio abbiamo imparato noi amministratori ad immaginare, ad immaginare come possa cambiare questo paesaggio e come deve essere per magari soddisfare le esigenze dei nostri cittadini e le aspettative di tutti. Grazie per questo lavoro.